Allora amici e telespettatori di Telebabu, siamo con il festiare di Cesa Fai un invito ai nostri amici e telespettatori a venire a una festa quest'anno Sì, quest'anno sarà una grandiosa festa, tre serate meravigliose Castellina Paso, il martedì per chiusura, Omar Codazzi il sabato che è un'orchestra spettacolo grandiosa e per la bomba la domenica abbiamo i nomadi Siete l'unica festa da avere i nomadi? Sì, è vero, quest'anno l'unica festa in Toscana per i nomadi quindi ci avremo fans da tutta Italia, spero, grandi Quindi siete tutti invitati alla festa di Cesa? Sì, siamo tutti invitati, sono tutti invitati alla festa di Cesa soprattutto la domenica con i nomadi e il martedì gran chiusura con i copi d'artificio Va bene? Perfetto Fatti un saluto per la nostra roba di Cesa Un saluto a Telebabu